per esempio io odio l'iphone ma lo sai che stai dicendo una cosa che farà incazzare il popolo del web salve gente benvenuti in questo nuovo video oggi l'argomento è veramente complicato contorto pieno di nodi e quindi per aiutarmi a scioglierli non potevo che chiamare lui l'unico l'inimitabile Gianluca Bocci ciao Gianluca benvenuto ti è piaciuta l'introduzione? Ciao se mi presenti così mi metti un po' in soggezione come stai? Come ti raccontavo prima fuori onda mi sono dato un treppiede a tre chili sul piede però non ho rotto il piede il treppiede vabbè di quelli di una volta quelli immortali che ci può mettere sopra sia un banco ottico sia metterci sopra la macchina quando devi cambiare le gomme senti mi fa strano farlo con te però vabbè giusto per quei quattro sciagurati se un attimino brevemente ti vuoi presentare direi chi sei che cosa fai allora di vita faccio tutt'altro cioè non vivo di youtube ancora non ci si riesce sono un informatico nella sanità però ho un passato nel mondo della fotografia e un passato ma anche un presente nella passione dell'audio e quindi ho preso due di queste mie passioni in realtà neanche troppe appassionato anche di moto appassionato di costruzioni lego via dicendo ho preso queste due passioni e ho deciso di raccontarle sul mio canale youtube e quindi sono un creatore di contenuti uno che racconta cose e proprio da una delle due passioni oggi partiamo perché vabbè te lo anticipavo off camera oggi si parla di sensori e prendo spunto da un ultimo da uno dei tuoi recenti video tu hai fatto questo esperimento fighissimo hai scattato delle fotografie a tua figlia con tre macchine fotografiche con tre sensori diversi un micro 4 terzi una psc e un full frame ok ho fatto anch'io questo giochetto carino che hai proposto col foglio di carta a cercare di capire quale foto era scattata con quella macchina fotografica allora premetto che mi ero detto vabbè due le sbaglio sicuro ma sì ma guarda quella col full frame la zecco ce l'ho e lei non può essere cazzo Gianluca ho sbagliato in più rincaro la dose ho visto di recente un video di Chris Howe un altro youtuber famosissimo americano che ha fatto sto giochetto ha scattato due fotografie un paesaggio una cascata la stessa identica composizione stessa identica foto una a 12 megapixel una 102 megapixel ok le ha fatte stampare formato bello grande e ha fatto sto giochino ha invitato qualche altro youtuber famoso Peter McKinnon e quant'altro e ha fatto vedere la stampa chiaramente stampata da una stamperia super bravissimi eccezionali e quant'altro hanno sbagliato tutti cioè tutti hanno detto che la foto più nitida qualitativamente migliore era quella a 12 megapixel piuttosto che quella a 102 quindi Gianluca è tutto sbagliato non ci ho capito un cazzo spiegami tu che sta succedendo allora è difficile spiegare la voce che effettivamente si capisce meglio quando tu sei dal vivo magari come dicevi te davanti ad alcune stampe ti dico questo in quella prova lì vorrei vedere quanto ha stampato grande perché un 12 megapixel ha lavorato per 11 anni con la Nikon D700 che ha da 12 megapixel e fino al 30-45 centimetri stampato è assolutamente stupenda sopra il 30-45 centimetri insomma che uno mi dice che lo stesso risultato rispetto a un 102 è fisicamente ma proprio a livello di dettaglio impossibile quindi se tu mi fai un 70-100 il classico manifesto stampato con 12 megapixel e con 102 è impossibile ma davvero dico io è impossibile che il 12 megapixel venga giudicato anche da un non esperto di fotografia migliore ma ti posso raccontare questo aneddoto io dieci anni fa ho fatto una mostra insieme ad alcuni amici in cui avevamo delle foto prese da una 6 megapixel da una 12 megapixel da pellicola e da non mi ricordo cos'altro tutte stampate uguali 30x45 centimetri tutte foto belle io alle persone che venivano alla mostra dicevo mi riconosci quella pellicola? erano già ai tempi di 10 anni anche della diatriba cosa è meglio? la pellicola o il digitale? adesso è passato ok però a quei tempi c'era ancora mi riconosci la pellicola mi riconosci 6 megapixel mi riconosci 12 non ci riusciva nessuno nessuno perché noi appassionati di tecnologia perché siamo sì fotografi ma siamo soprattutto geek e nerd quindi ci tiriamo dietro ai 24 megapixel ai 100 megapixel ai 50 flora nel secondo in realtà sono tutte masturbazioni mentali sì c'è la passione quindi è giusto alimentare la passione ma in realtà quello che conta è avere la bella foto se la foto è bella te ne sbatti se l'hai fatto con una macchina l'ultimo modello uscito una macchina vecchia di 10 anni se è fatta a pellicola se è fatta con una mirrorless se è fatta con reflex e via dicendo quindi le differenze sì ci sono sarebbe innegabile se tu ingrandisci il 100% una foto di 12 megapixel e una di 102 le differenze ci sono ovvio è matematica allora io effettivamente chiaramente vedo il montaggio dello youtuber di turno tra l'altro magari lascio il link qua da qualche parte così chi vuole qualche curioso se lo può andare a ripescare il formato della stampa era veramente grande grande parliamo che sicuramente era su non lo so 70-50 comunque era una bella stampa io non posso do per scontato che sia tutto vero quello che guardo e che non ci sia un motivo per per dire una cosa per un'altra però effettivamente tutti hanno cannato totalmente ma innanzitutto discorso sensore grandezza del sensore partendo dal tuo video di gli scatti a tua figlia sto sensore più grande è qualitativamente migliore? perché non è così sempre? allora c'è il discorso che qualitativamente migliore è una parola che c'è da capire cosa intendi tu per cosa si intendi per qualità perché la qualità che dovrebbe essere avere più pixel che quella effettivamente è la necessità perché se devo stampare effettivamente un non so uno stand di una fiera che è una parete non so di 6 metri per 3 enorme e devo metterci una foto che anche quando vado vicino non vedo dei cubotti ma riesco comunque ad apprezzare dei dettagli allora quella è la qualità perché ho un'esigenza proprio matematica di avere dei puntini da stampare oppure potrebbe essere io sono un appassionato di ritratto come nel mio video voglio vedere questo boke questo sfocato che sia il più possibile burroso pastoso perché noi siamo appagati da questa cosa qui questo potrebbe essere un altro aspetto qualitativo potrebbe essere la nitidezza e attenzione che la nitidezza cioè il fatto di riuscire a vedere netti i dettagli spesso è un inganno tornando a quel video che tu citi che purtroppo non ho visto te lo giro poi una macchina a 12 megapixel potrebbe fare uno scherzetto nel senso che io se stampo ingrandito avendo comunque registrato meno dettagli cosa fa lui? mi ingrandisce meno dettagli che vuol dire aumenta il contrasto che è un'illusione e quindi lo vedo ah ma questa foto è più nitida eh sì perché aveva meno pixel e quindi invece di ingrandire magari uno sfocato ingrandisce un punto lo fa diventare più netto più evidente ok però l'occhio umano non lo distingue potrebbe essere una spiegazione del perché c'è anche un dato numerico tra i miei studi perché ho iniziato a lavorare con la stampa digitale con le artigrafiche e l'occhio umano riconosce fino a 212 dpi cioè punti per pollice oltre l'occhio umano non ce la fa dovresti prendere o una lente di rendimento oppure vabbè se vai sullo schermo del computer 212 riflito a stampa sul schermo del computer c'è ingrandimento e lì può andare a distinguere quindi alcune differenze l'occhio umano le perde quindi tante gente che dice mi compro la sony alfa 1 per citare una delle macchine più discussa degli ultimi mesi che ha 50 megapixel ok ma quando li sfrutti questi 50 megapixel se tu prendi le foto le pubbliche soltanto su instagram non ti servono cioè sono assolutamente buttati all'urtica cioè ti bastano 6 megapixel su instagram si perché tra l'altro comprime tantissimo allora mi è molto più chiaro nel senso tu dici la differenza in termini meramente di megapixel deve essere necessariamente netta e non si può confondere una 102 megapixel con una 12 megapixel in stampa a meno che questo trick dell'occhio umano questo questo effetto no l'occhio umano non riesce a capire che dicevi tu perché essendoci meno megapixel ingrandita magari acquista un po' di contrasto e l'occhio umano si inganna e pensa che quell'immagine ok sulla grandezza del sensore sull'immagine pulita ecco ma l'immagine pulita perché tutti io per primo perché mi è venuto da dire che l'immagine è scattata col micro 4 terzi in realtà io ho detto nel foglietto ho scritto che era quella con il full frame cioè a dire a parte una cosa c'erano anche alcune differenze cioè io sul full frame ho utilizzato l'1.4 sul micro 4 terzi ho utilizzato l'1.2 quindi comunque anche quella frazione di diaframma in più di apertura massima alla fine è sensibile e poi c'è il discorso che ho detto nel video che una cosa è cercare come dicevo prima lo sfocato burroso che più aumenta la superficie sensibile cioè se ti capi a vedere lo sfocato fatto col banco ottico grondibava letteralmente se ti piace lo sfocato quindi maggiore superficie sensibile e più è ampia questa sensazione di sfocato quando tu sei sul micro 4 terzi invece il sensore più piccolo diminuisce sempre di più quando tu hai uno sfocato così evidente e sei vicino al soggetto succede a mare che hai a fuoco soltanto l'iride già le sopracciglia la punta del naso le punte dell'orecchie sono tutte impastate a noi malati malati boche questo oh bello che figata che spettacolo maggior parte delle persone alcune persone sono maggior parte ma lei possono avere effetto inverso ma perché è tutto così mezzo sfocato solo gli occhi sono nitili ma fa schifo quella foto e ti assicuro avendo avuto un passato anche da criminalista cioè di quelli che fanno i matrimoni mi è successo di avere questa discordanza tra il fotografo che si esalta quando riesce a tenere questo sfocato bellissimo e il cliente che invece dice no quella foto è brutta perché c'è tutto questo sfocato intorno che non mi piace prima hai inserito un elemento che giustamente io nel tuo video di comparativa non consideravo ovvero l'obiettivo ma quindi possiamo arrivare a dire che un micro 4 terzi può tirar fuori un'immagine addirittura superiore a un full frame giusto per stare agli antipodi allora io comunque questo nel video da me da fotografo soprattutto da appassionato di ritratto per me vinceva il full frame ah ok quindi tu preferisci ma si possono ottenere risultati leggermente inferiori quindi non proprio questo è uno spettacolo questa è una schifezza no si scende un po' utilizzando un'ottima ottica anche su micro 4 terzi o su APS-C ma secondo me era clamoroso in quel video il Viltrox che ho utilizzato su Canon perché quello costa una cavolata tipo 280 euro e comunque non era era intermedio cioè era comunque un buon risultato il micro 4 terzi un buon risultato con APS-C un buon risultato ma stiamo salendo vedo il gesto con la mano con il full frame e in mezzo c'è un'ottica da 280 euro effettivamente trovare delle differenze su quelle tre immagini Gianluca era difficilissimo però alla fine quando vedevi il ritaglio stretto che erano proprio i tre occhi di mia figlia Agnese vicina uno si sarebbe aspettato di vedere su una dei tre degli occhi schifosi inguardabili invece erano tutti e tre ottimi sì 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 no ti dico le differenze erano veramente quasi nulle senti volevo tornare sempre su questo discorso della risoluzione ma andare un attimino su una cosa un po' più tecnica che mi interessa io provengo un po' da sta passione dell'action cam da cui confesso ogni tanto cerco di disintossicarmi poi per un ritorno poi ogni tanto mi disintossico di nuovo vabbè e c'è sta sta tendenza ultimamente di aumentare i megapixel nonostante chiaramente i sensori beh tu lo sai benissimo sono così ok sta roba di aumentare sti megapixel e vendere no è quasi sai da media world la macchina fotografica questa c'ha 58 megapixel compratela perché è buona quello è marketing nudo e crudo e il mondo della fotografia è in grossissima difficoltà ma non solo beh forse le action camera possono puntare tipo l'ista 360 o la DJI Pocket che dicevo prima che utilizzo sulle particolari funzioni quindi forse il mondo dell'action camera è un po' più tranquillo che possono inventarsi qualcosa il mondo della fotografia invece è difficoltà perché c'hanno la fortissima concorrenza di smartphone ormai i smartphone riescono a tenere fuori di risultati sono prima sempre buoni quindi nessuno compra più le compatte infatti stanno scomparendo stanno scomparendo anche le bridge e anche le reflex mirrorless entry level stanno un po' scomparendo quindi si è sempre cercato di trovare dei dati di acchiappo e quando tu nella fotocamera il corpo è quello non ti puoi inventare nulla non c'hai il brio che hai nell'action camera cosa punti? megapixel e adesso i k di video i k di video è assolutamente inutile totalmente inutile posso capire il 4k ma per quanto sono pochissime le persone che guardano contenuti in 4k maggior parte sono full hd magari posso riprendere in 4k per ingrandire vada all'8k per ingrandire andare in 4k ma sono comunque cose poi che creano grossissimi problemi mentre sarà capitato archiviazione elaborazione invio la sony alpha 1 the one l'unica perché fa 50 megapixel a 30 fotogrammi per secondo che non servirà a nessuno ma il dato te lo sbatto in faccia e ti attira l'attenzione ecco ma quindi ad esempio sull'alpha 1 tra le altre cose io guardavo proprio le live mentre ne parlavi all'epoca non possono presentartela tu dici dicendoti l'alpha 1 a 24 megapixel la sony alpha 1 l'hanno pensata così se capito dopo proprio day one cioè vogliamo fare un prodotto che sia esagerato in tutte le sue caratteristiche raffica video messa a fuoco tutto esasperato mentre se prendi non so una di x di canon non mi ricordo quant'era se sbaglio proprio 24 megapixel cioè sta più bassa come risoluzione perché salire di risoluzione porta anche svantaggi e questo vuole sapere quali sono questi svantaggi la gestione cioè se tu devi lavorare con due schede perché il backup Mario Professionista è fondamentale e lavori con 50 megapixel con raffiche perché Mario fai fotografia sportiva e in quanto tempo finisci le schede quindi le schede devi prendere da un tera ognuno quanto costano due schede da un tera ma poi il tuo pc su cui fai il backup subito dopo quanto deve avere il spazio sul disco e se trasmetti il wifi quanta banda ti ciucci sono tutte cose che diventano problemi ma quindi non c'è però un peggioramento dell'immagine cioè spero di non dire una cappellata l'A1 è una full frame ma ha il doppio a 50 megapixel il doppio di una che ne ha 24 ok questa cosa si traduce comunque in un'immagine più lavorabile non lo so migliore sempre col discorso di che cosa si intende di migliore questa densità oppure può portare la densità maggiore ad un peggioramento dell'immagine allora la maggiore densità può portare alcune problematiche ad esempio se tu fai il micromosso cioè ti muovi leggermente mentre fai lo scatto con dei tempi mediamente lenti rischi che sia evidente il mosso che più hai punti che leggono quello che si trova davanti all'obiettivo e più il minimo difetto si vede l'altro problema dovrebbe essere quello del muare il muare cioè se tu fotografi qualcosa di con una trama fitta che potrebbe essere non lo so una ringhiera lontana rischia che ti si crea un effetto strano visivamente si risolve col filtro passa basso ma il filtro passa basso non ha tolto esistono tanti aspetti tecnici se non voglio neanche andare ad annoiare quindi più megapixelai su una superficie comunque mediamente piccola come potrebbe essere il full frame che sembra assurdo ah il full frame sì ma il full frame è piccolo pensa già il medio formato è già più grande pensa il banco ottico il banco ottico si scattava su un 10x12 vuol dire che il sensore era grosso come questa custodia di Murray cioè questo era il sensore un 10x12 esistevano formati anche più grandi ma più grandi di quello 4x5 più grandi sì il banco ottico 4x5 pollici quindi sarebbe 10x12,5 cm quello che poi io era banco ottico piccolo però tu prima citavi una questione interessante cioè tu dicevi forse il mercato dell'action cam o comunque delle telecamere che hanno i sensori più piccolini hanno ancora qualcosa da potersi inventare mentre invece quello delle classiche PSC full frame è un po' più saturo ecco cosa intendi con questa cosa in che senso avrebbero più da dire ancora più da dare l'ho detto anche sul video quello su Mario Palladino che fa un po' ridere che le fotocamere che salutiamo ciao Mario ciao Mario se ci stai guardando le fotocamere cioè questa qui è una Canon EOS M50 che ha la forma di una reflex esatto come fattura di forma come ergonomia sulle fotocamere si è inchiodato cioè sono tutte assolutamente uguali cioè tu prendi una Sony Alpha 1 è il futuro la fantascienza ma la forma di una reflex prendi una Fujifilm che comunque è uno dei brand più avanti fa macchine di tour nostalgiche con linee che ricordano gli anni passati prendi una Panasonic prendi una Canon prendi una Nikon sono tutte assolutamente uguali c'è un bozzo sopra che dovrebbe ospitare un pentaprisma dove neanche c'è quindi neanche serve ma c'è anche un assurdo Canon ha fatto la sua videocamera la C70 che è una forma di una reflex una videocamera con la forma metterle sul casco della moto sul manubrio della bicicletta sul non lo so qualsiasi cosa che sto facendo si cercano delle soluzioni la DJI con l'Osmo Pocket adesso solo Pocket ha creato questa idea cioè ok prendo il gimbal per donate se è il mio inglese e lo porto in qualcosa di più piccolo e portatile l'Ista 360 che la smonto io levo la batteria il display lo metto avanti di dietro ci metto il modulo Leica da un pollice lì vedo freschezza voglia di innovare o anche semplicemente di sorprendere effettivamente hai ricalcato un po' quello che ho detto nelle mie ultime video recensioni c'è stata una leggera ventata d'aria fresca da parte di alcuni brand perché dal mio punto di vista che diciamo sono addentro nel settore dell'Election Cam da tanto tempo si era un po' stagnato il settore qualcuno anche con coraggio devo dire anche con coraggio ma non vogliono innovarsi o non possono nel senso magari lì c'è anche tanto cercano di acchiappare un po' più il pubblico mantenendo questo tipo di estetica io penso ci sia proprio un po' di paura siccome ti dicevo prima che il mercato dei smartphone ha portato via una fetta enorme di mercato fotografico molte aziende hanno paura perché tu fai un prodotto coraggioso dal punto di vista di disegno di ergonomia e tutto potrebbe andare potrebbe non andare e secondo me c'è questa paura infatti ti dicevo l'unica azienda che vedo coraggiosa come adesso è stata ad esempio la Sigma ma la Sigma perché effettivamente il suo core business fammi fare un po' il figo con termine tecnico sono le ottiche quindi la Sigma dice ma noi facciamo ottiche e con quello portiamo avanti la pagnotta a casa facciamo un po' una macchina coraggiosa hanno fatto l'FP e l'FPL se vogliamo la Fujifilm ha fatto con la Expo 3 un design coraggioso una macchina che per esempio non ha il display normalmente visibile che è una scelta tosta però dice noi effettivamente portiamo avanti la pagnotta con l'XT4 e via dicendo quindi possiamo permetterci di fare macchine coraggiose altre aziende come Nikon e Canon invece hanno dimostrato fino a due anni fa anzi di essere con i freni tirati avevano paura di entrare tre anni fa nel mondo delle mirrorless sbagliando ha dimostrato poi questo Sony che Nikon e Canon hanno effettivamente perso parecchio tempo adesso Canon ha un po' recuperato il terreno Nikon sta un po' faticando vedremo quest'anno come se la giocano ok hai menzionato il brand Sigma che tra l'altro io adoro dal punto di vista delle ottiche perché ad esempio la serie art io ho un obiettivo della serie art mi piace tantissimo senti abbiamo parlato di paura e abbiamo parlato prima anche sul discorso dei social la gente le fotografie le guarda e le posta su Instagram ma non c'è il rischio che questa cosa qui stia danneggiando fortemente anche il mercato c'è ti voglio dire che senso ha far uscire delle macchine fotografiche che hanno delle prestazioni sulla carta incredibili se poi anche il fotografo professionista oggi quasi se non esiste sui social è come se non esistesse nel mondo se tu sei un fotografo effettivamente il tuo linguaggio è l'immagine non puoi non essere su Instagram che è un social che si basa sulle immagini quindi ovvio tu dici io faccio il fotografo però non mi apro un sito web non c'è la pagina facebook non c'è il profilo su Instagram a questo punto se non ti arriva un cliente con il tam tam non hai altre speranze di portare a casa uno stipendio a fine mese la promozione è fondamentale l'altro discorso invece che comunque l'utilizzo degli smartphone e si rilascia un discorso che fa ha creato un senso estetico sballato per esempio io odio l'iphone perché l'iphone tende a creare degli incarnati arancioni che per me che sono un appassionato di fotografia è una cosa che mi disturba ma lo sai che stai dicendo una cosa che farà incazzare il popolo del web ho capito ma io vedo delle donne bellissime stupende meravigliose che io mi sognerei di fotografare con una fotocamera mai con un iphone che pubblico queste foto in cui dice sì la natura è stata gelosa con te ma l'iphone invece è stato bastardo con te però c'è il viso arancione le tue linee perfette sono arancioni e a meno che tu ma qualche volta le prime volte pensavo è possibile che queste bellissime donne vanno dai centri estetici utilizzano creme abbronzanti sbagliate che è impossibile poi ho capito che è l'iphone che fa così perché l'ho preso anch'io mi facevo queste foto io sono bianco di cannagione pallido detesto andare al mare quindi sono normalmente bianchiccio pam abbronzato ma io non sono abbronzato e questa è la sua tendenza ma le persone ormai non ci fanno più caso ci si sono abituate lo vedi la prima volta ma lei diceva male alla seconda alla due milionesima alla due miliardesima quello è normale ma che sia una strategia di marketing da parte di apple per dire volete già essere abbronzati prima delle vacanze estive fatevi le foto con l'iphone sull'iphone vieni sempre bello c'è il giusto contrasto c'è la giusta nitidezza la giusta saturazione verso i toni caldi allora questo te lo insegna a qualsiasi scuola di fotografia una foto tu puoi scegliere toni caldi quindi verso rosso arancio questo del genere per rendere una foto più gradevole mentre male se vuoi trasmettere una sensazione la fotografia è trasmettere sensazioni Mario è più inquietante più triste vi dicendo Mario è verso toni freddi blu cosa del genere quindi cosa fa iphone siamo tutti felici siamo tutti vincenti siamo tutti positivi tutte le foto hanno toni caldi sempre e comunque dici non ne possiamo fare una nuova serie dei simpson eh sì sono concorde con te tra l'altro guarda che tu hai detto una cosa giusta per chi aveva letto il suo tempo è che quando matt greening dei simpson ha scelto di che colore realizzare incarnato i suoi personaggi perché ha scelto il giallo perché non l'aveva fatto nessun altro e quindi nello zapping televisivo la gente avrebbe subito riconosciuto i suoi praticamente personaggi prima che diventassero riconici è stata una mossa furba perché in questo modo lui si è distinto da tutto il resto così come sta facendo Apple Apple è bravissima comunque in tante sue scelte soprattutto di design c'è Otto Kliman non so se lo segui ciao Otto se volessi vedere questo video lo salutiamo lui ha studiato è proprio uno studio che si occupa di design e lui spesso parla di questo e ha mostrato anche dei libri che studiano tutto il lavoro che c'è stato nel corso degli anni dietro il design dietro il scelta del brand dietro Apple e sono scelte che vengono portate anche a livello software quindi non è soltanto la forma che ha il telefono che maria quelle ottiche bruttissime dietro ma perché perché tu quando vedi quelle tre ottiche messe in quel modo ha quello un iPhone lo riconosci subito ma anche nelle foto quando tu vedo le foto ormai su Instagram sono capaci di dire ok quella l'ha fatta un iPhone quella l'ha fatta un iPhone bene Gianluca io direi che è stato bellissimo abbiamo anche concluso con un tema bello caldo che spero farai infuriare tanti non so se sperare che faccia infuriare o non sperare magari per i leoni da tastiera che dicevo ma non si infuriranno perché le persone gli piace quell'estetica ed è normale non è solo per giudicare che la mia estetica è migliore quegli altri sarebbe uno degli ori più gravi un fotografo un fotografo l'avevo detto anche prima deve rispettare l'estetica degli altri specialmente il cliente assolutamente sì io Gianluca ti ringrazio veramente tantissimo perché tra l'altro mi hai aiutato anche a togliermi delle stupidissime convinzioni che me l'ho fatto ma d'altronde il format è tutto sbagliato quindi diciamo abbiamo chiuso il cerchio io ti ringrazio sei stato veramente gentilissimo grazie mille è stato un onore averti qui sul mio canale grazie a te per l'ospettare età io ragazzi vi ricordo chiaramente che i link al canale di Gianluca ve lo lascio lo trovate giù in descrizione anche al suo instagram mi raccomando seguitelo e io vi do appuntamento al prossimo video ciao